Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. Non so se qualcuno ricorda la polémica relativa alla frase del Noiz « Se potrei, lo sai che farei ». La canzone era veramente conceptualmente intoccabile. E poi c'era questo gioco che per mantenere comunque lo schema metrico andava a fottersi il congiuntivo. Si diceva « Com'è possibile? Nessuno se n'è accorto in studio?». Probabilmente era una scelta, una scelta ignorante per una musica che partiva dall'ignoranza e che anzi nel gergo e nel lessico del Noiz era pure troppo sofisticato, voglio dire. Cioè il Noiz è bella penna, no? Un errore così da uno che comunque ha fatto una discografia incredibile, non si sa quante canzoni, non è che ci sono tutti questi errori plateali. Allora girava questo post magari su Facebook con la foto del Noiz, «Se potrei, lo sai che farei, accolleria a un povero stronzo tutti i cazzi miei». E c'era tutta questa lotta, i boomer, no? A noi ragazzi giovani che condividevamo queste cose, le parole nere dove arriveremo, l'italiano è morto, e noi lì ad appellarci un po' alla licenza poetica. Questo è un ricordo che ho sulla Caldanotte, su quel brano e su quel periodo relativo proprio al livello sociale, quindi al di fuori dalla nicchia del Truceclan e dalla nicchia del rap, proprio lo scontro che avevi con professori, con genitori, con zii, insegnanti. Iniziano a sfondare i vari Dogo, Marrakesh, Fibra, fa fare al Noiz il featuring nel disco, chi vuole essere Fabri Fibra mi pare in testa, io fumo erba, bevo birra, mi sbatto la figlia, rubo i gioielli del capo famiglia, dista mille miglia, il giorno dell'ultima cena c'ho i miei angeli dietro la schiena, tanto non glie faccio pena, quella roba là, una roba super truce che, insomma, in Universal, come direbbe il Jake, metto in imbarazzo anche la Universal, comunque un esordio in major, Carter aveva partecipato a Bugiardo, in Cento Modi per Morire, che è un'altra canzone, insomma. Inizia la contaminazione, ci sono collaborazioni varie in vari dischi, tra gli artisti più importanti della scena rap di quel momento e il truce clan, Noiz Narcos in modo particolare, ma un po' tutto il clan non manca all'appello. E allora è arrivato il momento di fare un disco rappresentativo, è così che nasce il Ministero dell'Inferno, dove ci sono Fibra, Dogo, ma anche Chaos, Colle del Fomento, una sorta di nazionale 2006 in musica hip hop, una celebrazione totale per un progetto trucido di contenuti, perché i vari ospiti andavano a portare l'aspetto trucido di loro stessi. Quindi, se c'era, non so, un aspetto in stile Mr. Simpatia che sopravviveva in fibra, veniva portato il Ministro dell'Inferno, insomma, comunque in ogni fidu ring relativo e via dicendo. Inutile dire che a livello live il degenero era a livelli mai raggiunti, da nessuno probabilmente. Roma era il centro della scena come non lo era mai stata prima. Questa è, diciamo, l'apice e la fine del Truceclan. Quel tour lì, quel disco lì, e questa attenzione, questa rilevanza, è stata in qualche modo... sono stati fattori che hanno poi portato a un essere talmente in alto che, come direbbe il Libano, più in alto di così, giusto la morte. E infatti poi c'è stata la morte del progetto, no? Chi ha cercato di darse una sistemata, chi ha cambiato completamente vita, chi invece si è affondato del tutto. La verità è che, inoltre, non è che può sopravvivere tanto, poi anche a livello discografico mainstream. Cioè, se tu mi porti il concetto Truceclan, un Ministro dell'Inferno, o si va avanti uniti, oppure va avanti il singolo, ecco. Restava poi il concetto del clan, ma portarlo avanti fondamentalmente era il noise. Certo che tra il 2007 al 2012, per esempio, ancora ci si sperava. Comunque, tra le collaborazioni, il concetto Truceclan non era morto. Se andavi a live di noise, di Carter, si cantava Truceclan, Truceclan, ecco. Ma la bandiera, alla fine, era il noise. Ed è stato bravissimo, perché non è facile, cioè non è scontato, portare avanti comunque un movimento che non solo a un certo punto non c'è più, ma è un movimento che, comunque, si inizia a sgretolare. Magari trovi Metal Carter che dice «Non mi è piaciuto come si è comportato Tizio e Caio», Gel che cambia completamente stile musicale e poi proprio vita. Cioè, accadono delle cose che può succedere. Noiz che pare si sta a fare i cazzi su a Milano, non è che tutto è andato bene in quel momento, anche se alla fine era solo un desiderio di ricreare un qualcosa, fondamentalmente. Quando Carter critica Noiz che è sparito, poi anni dopo rifanno una diretta e tu vedi il Noiz emozionato, il Carter emozionato, era solo un, torniamo insieme a fa casino, ma nostalgia, fondamentalmente, nostalgia che si unisce alla frustrazione. La lapide vera è l'arresto, l'arresto fondamentalmente di cicoria tra i rapper, anche se noi, e con noi intendo noi giovani che ascoltavamo il Truce Clan, credevamo che stavano tutti in galera al 41 bis per come ce li avevano fatti passare i telegiornali, gli articoli, e invece tutti i liberi, sospettati, indagine, si doveva fermare un movimento che, diciamo, degenerava, ma fondamentalmente avevano tutti a che fare con la droga, tutti a che fare col mondo, diciamo, street, con i reati, però l'unico che veramente viveva di questo era cicoria. Noiz fondamentalmente era una brava persona, un tatuatore, uno accerchiato da un certo ambiente, sicuramente una persona che abusava delle sostanze, non è che stiamo a parlare di uno che spacciava o aveva bisogno, lui faceva tatuaggi, faceva musica, questo è, poi è diventato anche ricco con la musica, quindi voglio dire, cicoria era quello che invece è partito come spacciatore e finito come spacciatore, ed è bellissimo vederlo nelle scuole che fa discorsi di prevenzione sul carcere, racconta il carcere, combatte il disagio giovanile, cicoria è vero per questo, proprio perché poi si fa il carcere, non è che perde la credibilità, si fa il carcere, cambia mentalità, non solo perché mi sono fatto il carcere ho paura di tornarci, cambia mentalità perché è cresciuto, perché cicoria, ragazzi, è proprio il ragazzo di strada, punto, il ragazzo di strada non è quello che non ha paura, il ragazzo di strada è quello che la paura la combatte, a un certo punto non ha più paura di niente perché ha affrontato tutto e si è messo alla prova e questo è il cicoria che a un certo punto ha capito che devo fare, ora devo rifare una serra un'altra volta, ma gli altri fondamentalmente, ora tutti stireati, era più il movimento, era più la follia, non è che, o comunque erano magari fatti loro, cioè io non lo so che cazzo faceva magari Gast, non lo so che faceva tizi e cai, non so, nella vita loro cazzi loro, però non è che stavano lì a fare movimenti internazionali, magari c'erano i loro giri per cazzi loro, però non avevano a che fare con il movimento, inteso come, oddio, dobbiamo fare una retata, li prendiamo tutti perché questi spacciano i live, cioè si diceva in giro, girava sta voce, Tucciagan organizza live, ma è tutta una copertura per vendere droga, ma no, al massimo, spesso eravamo noi a lanciare droga sul palco, sperando che li prendessero, c'era questo mio amico che ha l'ultimo live di noi, ormai recente, vi parlo, nel 2018-2019, mille persone, prepara questo cannone d'erba devastante, glielo porge, proprio fa, il Noiz lo prende, fa dei tiri e poi fa anche un apprezzamento, perché quell'erba me la ricordo, una bubblegum devastante, e, è onore, orgoglio, oddio, il Noiz ha fumato la mia canna e ne ha parlato sul palco, cioè, parliamo di ragazzate, parliamo di cose da giovani, e ci sta, poi è vero che c'era chi magari approfittava per spacciare e c'erano membri interni che insomma, se io mi devo portare un tot di droga, se qualcuno la prende, però non è che c'era una rete organizzata, non è che c'era una criminalità, non c'era la banda della Magliana, si faceva musica, erano artisti, grandi artisti, tra l'altro, fondamentalmente questo, comunque col Cicoria dentro, che poi quando esce, mi ricordo nel disco, A sta la muerta, la traccia che dice, il doppio N me rimette in sella, cioè, quel featuring, io l'ho visto come quando, capito, esce di prigione, l'amico della gang, e tu gli dai un po' di soldi per iniziare, ecco, quel featuring è stato, veramente bello, veramente di qualità, non è stato tutto, ma il Cicoria ha dato, veramente tutto, comunque, con, con questo, la credibilità, arriva alle stelle, perché quando c'è un'indagine, proprio, su di te, è a maggior ragione, però è la fine, è la fine di tutto, restava il concetto, anche un metal carter, e, secondo me, il maggior rappresentante del movimento truce clan è lui, non è il Noiz, dal punto di vista concettuale, però, ovviamente, lui è un po' più, un po' più profano, va, va in altre direzioni, è veramente meno abbordabile, al pubblico, la, il nuovo inizio, per Noiz Narcos, che si fa carico, sulle spalle, di tutto il clan, è Andrea, Andrew Propaganda, che, in quel periodo, comunque, quando inizia ad arrivare lui, il nome truce clan, è ancora, importante, il concetto truce clan, non è morto, c'era, Duke Montana, pure, che poi, insomma, l'ho già detto, c'è stato il dissing, e tutto, che però, ci ha creduto tanto, e, vi faccio un esempio, no, lui dice, che la gente, delega a Noiz, una parte di follia, che non riesce a vivere, è esattamente così, Andrew Propaganda, è un personaggio, che ha capito Noiz Narcos, più degli altri, ed è il nuovo punto di partenza, perché, è un personaggio, che ha cambiato, in qualche modo, una fetta, di rap italiano, sono fondamentali, i personaggi come lui, che oggi, si fa fatica, a trovarne, perché, lui parte proprio, dal mood, del clan, non dalla brama, di denaro, cioè, ne sento molti, fortissimi, che fanno i manager, a quel livello, ma che sono, dei veri e propri, business man, che non vedono niente, se non quella roba lì, magari comprendono, l'artista, ma la potenzialità commerciale, Noiz, non ha nessuna potenzialità commerciale, è una scelta netta, da sposare, o da evitare, come la peste, questo è il suo commercio, Noiz è lui, la potenzialità, commerciale, di Noiz Narcos, non ha a che fare, col mercato, ha a che fare, con se stesso, parliamo di uno, che mi è piaciuto molto, il discorso, sulle registrazioni, one take, cioè, io faccio una registrazione, magari ci sono degli errori, ma mi leggo, a quell'errore, a quella roba, e non voglio rifarla, non è necessario, fare una strofa, fatta bene, accademicamente, io sono d'accordissimo, e quindi ragazzi, ho fatto questo viaggio, vi ho raccontato, tutto, penso veramente, nessuno, perlomeno in audio, magari, qualche documentario, ma nessuno, è andato così, a fondo, per cercare, di farvi capire, che cos'è stato, il Truceclanda, la prospettiva, dei ragazzi, come tanti, come posso essere io, come poteva essere, chiunque, e chiuderei, questa storia, qui con l'uscita, di M3, una hit di strada, per un disco, Guilty, e siamo nel 2011, che ha veramente, dato tanta, soddisfazione, ragazzi, il mix, delle strumentali, i testi, il flow, per me, quel disco, non dico il migliore, perché forse, mi sbaglio, ma è quello, che ho consumato, di più, meno male, che il Noids, ha snobbato, per dirvi, anche lì, c'era Andrew Propaganda, e l'Universal, che ascolta, dice, no, ottima pena, bene tutto, però, andiamo, facciamo un disco nuovo, questo non lo lanciamo, e Noids, prende, si alza, se ne va, Andrew Propaganda, che aveva messo i soldi, per il disco e tutto, un po' gli viene l'infarto, che dice, ma dai, ma che facciamo, però, anche lì, c'è la capacità, di non rinfacciare niente, di dire, mi fido di te, sei tu l'artista, il direttore artistico, del progetto, perché quello è il discorso, oggi, mi sembra assurdo, che gli artisti, compreso Noids, magari, fanno un disco, ma la direzione artistica, di chi è, no, è assurdo, solo il Noids, ai tempi, poteva sapere, cosa era meglio per Noids, senza saperlo, perché andava istinto, e oggi, magari, fa musica, anche più adatta alle major, visto il mercato, come si è evoluto, fa numeri grandi, in un mondo, che è cambiato, ma ai tempi, era veramente, come Cristiano Ronaldo, a real, proprio, e quando è che Ronaldo, ha smesso di funzionare, quando non riusciva, più a essere determinante, da solo, e Noids, sta cosa, ancora non la conosce, perché nel 2023, nonostante tutto, si porta, io lo ripeto, per la seconda, terza volta, il clan sulle spalle, e verano zombie 3, 2022, è la prova, che da un momento all'altro, non dico, si possa rivivere, quella magia, ma uno sprazzo, uno spiraglio, quello magari sì,